signori buongiorno e bentornati sul canale del master care io sono il master care il vostro ospite su questo canale negli ultimi due video abbiamo parlato della griglia tattica abbiamo visto come muoversi abbiamo visto come combattersi in questo video chiudiamo l'argomento e andiamo a parlare di come guadagnare bonus e quindi come difendersi combattendo sulla griglia tattica sì in effetti questa probabilmente era la prima cosa di cui avrei dovuto parlare speriamo che nessuno si sia fatto male nel frattempo la prima cosa che bisogna introdurre prima di parlare di copertura occultamento e la linea di vista la linea di vista è una retta immaginaria che congiunge uno qualunque degli angoli dello spazio occupato da una creatura con uno qualunque degli angoli occupati dal bersaglio che esso sta cercando di vedere se il bersaglio non è visibile naturalmente la linea di vista non può essere tracciata il bersaglio ad esempio potrebbe essere nascosto da un ostacolo che ne oscuri completamente la sagoma come un muro oppure il bersaglio potrebbe semplicemente non essere visibile perché sta usando un incantesimo che lo rende invisibile o perché in qualche modo ha cercato il personaggio per le regole l'effetto è sostanzialmente lo stesso chiarito questo andiamo a parlare della copertura per copertura nel d20 system si intende un qualsiasi ostacolo solido che oscuri almeno in parte la sagoma del personaggio che si è messo in copertura dietro a quell'ostacolo e che non sia più piccola di una taglia rispetto al personaggio per dirla più semplicemente un umano di taglia media potrebbe mettersi in copertura dietro un barile di taglia piccola ma un antico drago rosso di taglia colossale non potrebbe nascondersi dietro un carretto di taglia grande per stabilire se una creatura è in copertura o meno chi l'attacca deve tracciare una linea di vista verso la creatura che sta attaccando se questa retta attraversa un quadretto occupato da un qualche elemento che fornisce riparo il bersaglio è in copertura e riceve un bonus di più 4 alla propria classe armatura e un bonus di più 2 al tiro salvezza sui riflessi ad esempio in questo caso la creatura sarebbe in copertura dagli attacchi al primo personaggio ma non del secondo essere in copertura nega anche gli attacchi di opportunità in quanto si considera che il personaggio sfrutti il riparo per difendersi anche una creatura può offrire copertura sia che sia alleata sia che sia nemica del bersaglio ma in questo caso non si hanno bonus attivi salvezza sui riflessi naturalmente la maggior parte dei regolamenti lascia il master libero di aumentare o diminuire il bonus fornito alla copertura in base a quello che lui ritiene un master potrebbe ritenere che mettersi in riparo dietro una parete in cemento armato che abbia delle piccole feritoie attraverso cui sparare conceda un bonus di copertura molto più alto che tuffandosi dietro un cespuglio o allo steccato di legno di una casetta che non è neanche concepito per oscurare la sagoma la copertura però riguarda solo le barriere solide che si frappongono tra due creature ci sono altri effetti che potrebbero oscurare la sagoma del bersaglio come la nebbia il fumo una pioggia molto forte o anche il fatto che chi attacca sia accecato robe simili tutto questo non è considerato copertura perché non è una barriera fisica ma ricade sotto le regole dell'occultamento l'occultamento è un caso particolare all'interno delle regole del d20 system perché non è espresso in forma di classe difficoltà non rispetta la regola generale e non richiede un tiro di dado a 20 ma è un valore percentuale e richiede un tiro su un dado percentuale per essere superato e un retaggio delle primissime edizioni normalmente se non viene definito diversamente chi beneficia di occultamento ha una possibilità del 20 per cento di ignorare i colpi in arrivo naturalmente questa possibilità può essere alzata abbassata o a discrezione del master o con talenti o condizioni particolari specificati nei vari manuali di gioco per beneficiare di occultamento la linea di vista che va dalla creatura attaccante a quella bersaglio deve attraversare un quadretto in cui è presente un effetto di occultamento in questo caso la creatura avrebbe occultamento rispetto agli attacchi del primo personaggio ma non verso quelli del secondo nel caso attaccante non possa tracciare nessuna linea di visuale verso il bersaglio come si e l'attacco dato dall'occultamento aumenta al 50% e il bersaglio diventa anche immune agli attacchi di opportunità inoltre godere di una percentuale di occultamento è anche la condizione necessaria per poter fare i tiri di nascondersi ma questo lo vedremo poi più avanti in un altro video quando parleremo delle abilità per questo video invece è tutto e abbiamo anche per un po finito di parlare della griglia tattica anche se sicuramente ci ritorneremo in futuro quando dovremo parlare di incantesimi a red effetto quindi rivedrete le animazioni in futuro non vi preoccupate per adesso invece mi piacerebbe sapere se voi vi siete mai miracolosamente salvati grazie a una copertura o se qualcuno di voi ha mai giocato o creato come avversario un personaggio ladresco che fa del fatto di avere occultamento fondamentalmente il perno su cui ruota il suo intero gioco come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e lasciate un commento che aiuta a crescere il canale io sono il master k e noi ci vediamo al prossimo video